Sono Giacomo De Bastiani, responsabile del centro di documentazione audiovisiva, è un centro del comune che esiste da ben 23 anni, con lo scopo principale è quello della divulgazione dell'audiovisiva, della cultura audiovisuale in tutte le sue forme. In questi anni il centro ha creato diversi video istituzionali, documentari e molti corsi all'interno delle scuole e rivolti ai cittadini. La terza attività è quella legata alla creazione di eventi culturali. Cinelandia esiste fin quasi dalla nascita del centro di documentazione, lo scopo di Cinelandia è quello di mettere insieme il meglio dei titoli d'autore della stagione cinematografica in corso. La filosofia di base di Cinelandia, oltre a quella di offrire titoli internazionali meno conosciuti e quindi con produzioni meno commerciali, ma è anche quella di creare una sorta di rappresentazione della società attuale. La rassegna è composta da ben 12 titoli, il primo titolo è il 18 gennaio con Riccardo va all'inferno di Roberta Torre e prosegue con una serie di titoli vincitori di premi da diversi festival, dai festival di Cannes, di Venezia, di Roma, Torino, Toronto. Quindi vi invito a partecipare come tutti gli anni. Grazie.